Ecco lo stile a domani ragazzi, sono tanti carichi e erzilli nel canale, altro video di serata, oggi ci sono tanti argomenti quindi da infattare insieme e ho voluto fare più video per tenervi aggiornati in tutti i fronti del calcio mercato e poi andare a fare un'analisi un po' breve su quello che sarà di Napoli Juve dato che in molte addirittura griderebbero vendetta come è successo l'anno scorso quando Napoli rinviò appunto Napoli Juve e Juve Napoli e vorrebbero anche loro rinviarla dato che noi non abbiamo i sudamericani e il Napoli invece può beneficiare di tutti i titolari a parte forse il portiere perché il Merez è infortunato e anche Ospina e quindi diciamo che è una situazione abbastanza simile. Prima però volevo darvi due notizie di calcio mercato che mi preneva appunto snocciolare con voi e che riguardano due importanti colpi che la Juve potrebbe mettere a segno e che si sono per i momenti intoppati soltanto perché McKennie non è ancora stato piazzato, era sacrificato numero uno selezionato anche dalla società ha insaputo di Allegri che lo voleva tenere perché lo considerava comunque un buon incursore un giocatore che poteva inserirsi e fare comunque 5-10 gol alla stagione però alla fine potrebbe essersi sacrificato per gennaio e appunto i talenti su quei due punti sarebbero Chouameni di cui abbiamo già parlato, Rylane Chouameni, il giocatore del classe 2000 del Monaco che come sapete tutti non ha passato il turno di eliminazione dell'Europa League appunto per andare in Champions e quindi purtroppo ha bisogno di rimanere lì ancora fino a gennaio per poi pensare di potersi muovere a Torino dove avrebbe la chance di giocare la Champions League coloro appunto fosse messo nella lista Champions chiaramente da Allegri e l'altro è Bruno Guimaraes altro giocatore un mediano del Lione altro giovane promettente che appunto avrebbe diciamo alzato l'attenzione di Cherubini e Riva Bene Danielli e quindi potrebbe esserci anche un colpo in quella direzione se non si dovesse arrivare a Chouameni quindi sono due nomi che vanno tenuti lì appunto nel taccuino il valore di mercato si aggira attorno ai 30-40 milioni proprio il valore di McKennie che appunto la Juve ha chiesto diciamo come contributo per compensare il valore del giocatore e soprattutto fare plus valenza dato che noi ne abbiamo pagati 20 però dilazionati e vediamo cosa potrà succedere sono comunque buone notizie nel senso che la Juve si sta muovendo diciamo in questo senso per portare a casa dei giovani quindi continuare questa linea verde non è detto che però questi giocatori giocheranno io mi auguro che la Juve veramente consideri la possibilità di svecchiarsi e di ristrutturarsi in modo tale di diciamo sfornare giovani che poi diventeranno talenti e campioni e vinceranno con noi però io ho ancora questa paura che cullo nel mio cuore che in realtà i nostri esigenzi non vogliono altro che carne da macello quindi giovani da mettere nel nostro roster farli aumentare di valore proprio perché vestono la maglia della prima squadra e poi girarli in prestito oppure venderli dopo aver fatto qualche 2-3 prestazioni buone e appunto aver alzato il valore di transfer market io mi auguro che non sia così perché una squadra che deve puntare in alto deve ricostruirsi dopo una fine di un ciclo e deve tornare vincente dopo questi nove anni favolosi in cui bisogna fare soltanto dei complimenti a tutti deve appunto fare come fanno le big le big d'europa non si salderebbero mai a continuare a speculare sui giovani girarli in prestito ovunque oppure andare su parametri zero oppure sopravvolutori ai giocatori non sbaglierebbero mai delle opinioni su dei calciatori non riuscirebbero mai a prendere giocatori che sono finiti o che sanno benissimo che non renderanno faranno cinque partite poi si adagano sugli allori hanno dei dirigenti dei procuratori molto più attenti rispetto a noi e questo in questo dobbiamo migliorare per quello che secondo me diciamo agnelli piano piano sta cercando di mettere una struttura in direzienziale in modo tale da essere attivi più fronti e mettere più occhi che controllano l'operato di tutti e io spero veramente che in pochi anni se non è quest'altro anno magari 2023 riusciremo già a tornare nelle prime 8 barra 4 d'europa e il processo è lungo lo sappiamo hanno messo allegri sperando appunto di tamponare le ferite e tamponare anche le lacune che questa rosa ha ed è sono evidenti in modo da avere la massima resa spendendo poco chiaro che potremmo aspettarsi veramente un anno di magra come molti di voi giustamente hanno detto nei commenti anche non vincere il campionato non vincere nulla diciamo a livello nazionale magari solo una coppa italia o una supercoppa quindi un trofeo quest'anno però diciamo ripianare il bilancio risanarsi a livello economico e avere grande potere d'acquisto nel 2022 barra 2023 andando su giovani forti come appunto vi ho detto cio meni e guerri marais per il centrocampo vlavovic per l'attacco e milenco viz per la difesa insomma i nomi ci sono la giuba deve solo aspettare il momento giusto per essere diciamo sana economicamente e soprattutto avere una mentalità di nuovo vincente una consapevolezza nei propri mezzi e una progettualità chiara e concisa che diciamo metta sullo stesso piano e su una linea universale allenatore dirigenza e giocatori perché è fondamentale e io sono convinto che come molti di voi hanno detto e mi hanno fatto anche notare in maniera positiva che ce la faremo se non quest'anno appunto gli anni prossimi e confido chiaramente in allegri adesso i primi video li ho fatti abbastanza tosti e arrabbiati arcigni proprio perché volevo dare l'idea di quello che non era successo quello che non aveva fatto la juve sul mercato ma senza dare sentenze senza essere troppo severo l'avevo fatto soltanto per analizzare argomentare la situazione della juve sperando nel meglio perché quello che mi auguro chiaramente essendo giuventino nel bidal midollo spero sempre che ci siano risvolti positivi d'ora in poi a livello societale a livello di rosa e di allenatore e quindi piano piano comincerò andare sul lato positivo della questione cercando appunto di creare un'energia positiva attorno all'ambiente in modo tale di essere uno dei tanti che poi mi seguiranno in questa nuova diciamo mentalità che secondo me porterà un valore energetico aggiuntivo come tifo alla squadra perché chiaramente anche per i giocatori per tutti quelli che visualizzano i video su youtube oppure leggo notizie nel web secondo me diventa tosta andare a scendere in campo quando hai tutto il tifo contro e sei criticato tutto il tempo e chiaramente perché i social sono lamentati quindi anche loro sono umani non sono dei robot hanno un cuore anche loro hanno dei punti deboli in cui se vengono toccati chiaramente rischiano di intaccare anche le loro prestazioni come abbiamo visto un esempio di Morata che aveva risoluto minacce veramente angoscianti sia per i suoi figli sia sull'amorosa e chiaramente è molto molto faticoso riprendersi mentalmente andare in campo sgomberando la mente e focalizzandosi solo soltanto su sul gioco e quindi sì voglio essere diciamo magnanimo nei confronti della Juve onesto intellettualmente e dire che se ci mettiamo lì con la testa e ragioniamo su quello che possiamo fare su quello che possiamo tirare fuori contando il valore della rosa che abbiamo potremmo almeno diciamo colmare il gap che in questo momento abbiamo purtroppo con l'inter la lazio il milano di vedere anche la roma e l'atalanta e cercare di giocarci il quarto posto diciamo con tutta la forza possibile immaginabile anche facendo leva sul senso di orgoglio di appartenenza alla maglia e soprattutto la voglia di dimostrare che non sono delle scarpe rotte i giocatori ma che valgono ancora tanto perché secondo me è un minimo di orgoglio nei giocatori verrà fuori sicuramente anche veicolato da chiellini e bonucci che secondo me faranno di tutto pur di rianimare questa squadra e farla rendere al meglio e farla puntare a degli obiettivi fatemi sapere cosa è in piacere dei video lasciate un bel pollicione iscrivetevi al canale e attivate la campanella a presto ragazzi